bella ragazzi come tu sei salam francesco bc con la tua canale youtube franca 21 di questo canale mettete in pace oggi raga siamo qui nella mia officina come vedete la swing quando ho fatto presentare l'officina raga faccio il tornato piano di giù e lì voglio fare una cosa per pianeggiare infatti ora non c'erano i video infatti conoscete questa bc di qui e la beneggiare raga la devo tutta beneggiare e qui ragazzo tutto qui sopra io quando trovo comando il cavallito faccio anche sui cavallito il mio soppello giallo ci puoi mettere la bc qua io ci metto cosa la bc le ho corsa quando ci faccio dei cavalli batte ora che la scendo la metto qui sopra ci accendo la ruota che uscirà un video che devo fare il pignone e andrò la raga abbiamo fatto la telecamera questa è la mia officina che l'ho fatto vedere qui c'è un altro piano ma se ci sono gli spenderatori che la devo portare sopra e tutta mia officina qua ci sono i bc che devo restare questa breve vedrete qualche video quattro c'è la bc ho qui io e questo è tutto la mia officina io quando cammino qui ci sono i cavalli c'è una mia amica risponda la sacchia venda raga raga un paziente è stato a noi video tu si toccare le cavalli non posso dire che sognuno video ora qui si scende c'è un piccolo bunker con quello che ha fatto questo vecchialino ma questo è quello vero c'è un piccolo bunker anche qua c'è il gabinetto in base dove c'è il gabinetto si scende nel bunker raga qui ci sono tutti i bc scusate raga sto scendendo ecco qua già qua io avevo fatto gamba lassù qui sotto qua c'è il mio bunker c'è un po' il cassino lì ci sono rossi io la voglio liberare tutta questa zona qua fino alla sedia la sedia per la pasta della panna quasi questa è tutta la zona qua la libero tutta battere i bracci che la metto lì sopra vediamo se posso liberare tutta questa zona di qui fino a qua questa cadenella questa cadena devo superare fino a questa cadenella io la liberare tutta questa zona qui raga guardate e qui che c'è già una cadenella mi sa qui per veneggiare quando devo veneggiare una bici una cosa poi c'è fatto il cancro quello per staccare la bici poi c'è questo lab non so perché non funziona forse c'è una forse che vuole un letto è cambiato ecco c'è un magazzino raga io l'ho potuto liberare qui c'è un carriere nel motore c'è un bici e il bici nella stu lì raga basta il compostore queste cose qui c'è da mangiare qui dovevo liberare solo qui qui questa zona qui ma è importante come vuole anche le bici poi vediamo come lo posso mettere lì io devo bozzi semmai e vedremo avanti come posso fare qui vedremo se posso mettere una tintina una cosa quanto scompare perché qui sotto ci voglio veneggiare raga ma non devo veneggiare i bici no che a volte io sopra non posso fare tante cose devo veneggiare devo fare un video scuro colore scuro guarda non meglio questo scuro scuro in terra ma questa sera è meglio scurare in capremarone raga allora a breve iniziamo a cercare in base ci sono c'è il bici poi a tutte le macchine la mia moto mega la mia moto la metto qui sopra questa mia moto che è la mia prima motore ma c'è voi lascio il link nei tic tocchi dove pubblico il moto che ne faccio youtube bello giusto tutti che tocchi raga il resto link che c'è la mia mia moto questa è una volta l'avevo messo la messa in moto fate tutti che tocchi andate a tagliarceli la c'è la bici la cosa quella prima la cosa raga la prima questa è antica forse è una grassella solo se qualcuno sa come posso costruire questi copertoni raga mi scrivi giù nei commenti mi manda un link di queste copertoni cosa piccina siamo qui lì ciao di luce vi dico raga noi ci vediamo prossimo video con Francesco Picchi raga aspetto a questo canale mettete mi piace e noi raga ci vediamo un prossimo video bella aspetto a questo canale ma